Presidente Bolzonello, quest'oggi la Giunta su sua proposta ha approvato un bando su ricerca e innovazione relativo al PORFESER 2014-2020. Continuiamo con un passo alpino, piano piano, ma con grande determinazione a mettere tutti i tasselli per rilanciare tutto quello che è il nostro mondo produttivo. Questo bando è importantissimo all'interno della programmazione europea 14-20 perché permette a quelle aziende che sono già state valutate, già hanno avuto una possibilità di accedere ai fondi per l'innovazione, di trasformare quei progetti per cui sono stati finanziati anche per la parte investimenti. Quei progetti adesso, ovviamente, i progetti di innovazione hanno bisogno di diventare da progetti a sistemi produttivi. Con questo bando finanziamo tutta quella partita. Prima l'innovazione, l'innovazione c'è stata, adesso tutta la parte investimenti che applicano l'innovazione e quindi creano impresa.